ciao a tutti oggi è il 6 di settembre festa qui è festa nazionale in bulgaria siamo sul fiume europotamo vicino a primores tra primores e sozzopol un posto molto bello questo un parco naturale ci sono diverse persone che girano nel parco ecco qua qui siamo in un'anza del fiume che molto caratteristica e praticamente questo fiume sgorga a qualche chilometro da qua sul mar nero c'è anche chi pesca vuol dire che un fiume pulito un fiume vivo non ci sono zanzare io ho i pantaloni corti ancora non ho sofferto pizzicotti per cui è positivo ciao a tutti